Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di un abbraccio particolarissimo, l'ultimo gesto di affetto di una famiglia che è la drammatica testimonianza del terremoto di Creta del 365 d.C. E poi vedremo anche gli amanti di Assallu, un bacio che dura da quasi 3000 anni. Prima di vedere le storie di quei luoghi che hanno ospitato le spoglie mortali di queste anime che furono, vorrei chiedere agli ormai famosi 6 spettatori su 10 che non sono iscritti di cliccare sul tasto iscriviti. Non lasciate che il nostro lavoro rimanga sepolto sotto metri di terra, ma fate come solerti archeologi che scavano alla ricerca di storie interessanti da ricostruire, estraendoci da quell'oblio mediatico cui spesso sono relegati i canali di divulgazione culturale. Grazie mille. Cipro, 21 luglio 365. In quell'epoca l'isola è sotto il controllo dell'impero romano, già diviso come d'Oriente ed Occidente da Valentiniano I, il quale ha affidato la parte orientale dell'impero a suo fratello Valente. I due hanno preso il potere nel 364 e le invasioni barbariche che saranno, fra le cause, dell'inizio della fine dell'impero romano, sono di là da venire, con la battaglia di Adrianopoli, dove morirà Valente, che si svolgerà soltanto 13 anni più tardi, nel 378. Probabilmente quella era un'estate come tante, passata al caldo delle spiagge cipriote in una terra ricca e benestante. Ma a quel 21 luglio del 365 la natura decide di sconquassare tutto il Mediterraneo meridionale. La placca tettonica europea si immerge sotto quella egea, provocando il sisma più violento mai registrato nel nostro mare. Il terremoto ha una magnitudo di 8,3-8,5 sulla scala Richter. La terra di Creta, vicino a Cipro, si muove di 9 o 10 centimetri in altezza e molte città costiere di tutto il Mediterraneo vengono distrutte. Al sisma segue uno tsunami con onde di 9 metri di altezza, che raggiungono non solo le città e le isole greche, ma anche quelle della Calabria e della Sicilia, e poi più a sud, dove lo tsunami raggiunge la maggiore violenza con onde alte 12 metri e invadono Alessandria d'Egitto per due chilometri dalla costa. Ovunque è distruzione e morte. Anche se è impossibile fare una stima precisa, le vittime della catastrofe sono circa 45.000. Tra queste si annovera anche una famiglia di tre persone a Curion, sull'isola di Cipro. Ora, facciamo un salto in avanti di circa 16 secoli. Nel 1984 l'archeologo statunitense David Soren, che sta lavorando alle ricerche su quella catastrofe, scopre che l'epicentro del terremoto è stato a sole 25 miglia marine a sud-ovest della città di Curion. La sua scoperta, anche se poco appariscente, è fra le più significative dell'archeologia mondiale e consente di comprendere molto meglio le dinamiche di distruzione e morte che provocò quell'evento. Soren scopre anche, fra i resti di una villa romana, tre scheletri che testimoniano la drammaticità delle conseguenze del terremoto. I resti di questi antichissimi ciprioti sono abbracciati l'uno all'altro in una di protezione familiare con poche corrispondenze nei ritrovamenti archeologici moderni. Lo scheletro nella parte inferiore è quello di un bambino, il quale viene abbracciato dalla madre che è a propria volta abbracciata dal padre in un estremo tentativo di protezione. I tre sono stretti, nella speranza che lo tsunami non li travolga con la sua furia devastante, che la casa che abitano non li schiacci sotto il peso delle sue macerie. Purtroppo per loro quell'abbraccio sarà l'ultimo atto di affetto della loro vita, una drammatica testimonianza di quel 21 luglio 365 quando il mar Mediterraneo travolse ogni cosa. Oggi i tre scheletri sono visibili al museo archeologico di Curion, a Cipro, dove sono esposti all'interno di una bacheca. Dal mar Mediterraneo adesso spostiamoci un po' più a sud, un po' più a oriente, in Iran, per parlare di due antichissime persone che, forse ma non è sicuro, morirono in un abbraccio che li fa definire amanti. Esistono alcuni rarissimi casi in cui le sepolture vengono occupate da due persone, spesso a causa di eventi catastrofici come guerre o calamità naturali. I due scheletri di Hassan, lui, Nira, fanno parte di questa ristretta categoria e sono diventati famosi nel mondo a causa del loro presunto bacio, reso eterno proprio dalla posizione in cui i due ignoti protagonisti hanno trovato la morte. Gli archeologi ipotizzano che i due amanti si siano rifugiati dalle fiamme della città messa a ferro e fuoco e che siano morti asfissati dal fumo in questa posizione. Sebbene notate la fotografia, il cranio di uno dei due scheletri è evidentemente rotto, ma il foro è il risultato delle operazioni di scavo e non di traumi subiti dall'uomo o dalla donna ancora in vita. Il team di archeologi trovò i resti di queste due persone nel 1972 e da allora la fotografia dei due scheletri ha rappresentato una delle più citate per raffigurare un simbolo di amore eterno. Su alcuni siti è stato riportato che gli scheletri sono antichi di 6.000 anni, ma la datazione al carbonio 14, operata dall'Università della Pennsylvania, li colloca nell'Ottocento a.C. circa. Peppe Assallu, nel nord-ovest dell'Iran, è un famoso sito archeologico di una città che è stata scavata per ben 10 campagne tra il 1956 e il 1974 da un team della University Museum, University of Pennsylvania, e il Metropolitan Museum di New York. Nel corso degli anni sono stati scoperti moltissimi reperti di valore storico, la cui questa coppia è definita The Lovers, che simboleggia l'amore eterno. Se vi è piaciuta la storia degli scheletri abbracciati, sepolti insieme, andate a vedere anche il video sugli amanti di Valdaro. Ne ho parlato a settembre scorso e lo trovate sul canale di Vanilla Magazine.